Lunedì 19 aprile abbiamo concluso il corso di storia dell'arte edizione dedicata al rinascimento. Ringraziamo tutti i partecipanti, numerosissimi, sono state più di 150 persone che dal febbraio del 2020 hanno seguito le nostre lezioni. Siamo passati poi al digitale, un'opportunità nuova che immaginiamo di mantenere per venire incontro anche alle persone che eventualmente non riuscissero a raggiungerci quando speriamo torneremo in presenza. Il progetto del corso di storia dell'arte va avanti da diversi anni. Ogni anno il corso permette di finanziare alcuni progetti del museo grazie alle quote di partecipazione. In passato è stata finanziata la pubblicazione della rivista e quest'anno invece dedicandoci al rinascimento abbiamo immaginato di poter finanziare un piccolo progetto di catalogazione e di ricerca dedicato alle medaglie di epoca rinascimentale. Abbiamo quindi individuato una giovane ricercatrice, Clara Segesio, a cui abbiamo affidato un lavoro di catalogazione e di ricerca in modo da ampliare le conoscenze che abbiamo di questo nucleo di medaglie del rinascimento. Un nucleo che sicuramente potrà essere valorizzato in futuro grazie alle conoscenze che acquisiremo. Di nuovo quindi un grande ringraziamento ai partecipanti al corso di storia dell'arte 2020. Grazie a tutti!